Potrebbe essere salva la stagione invernale ai prati di Tivo di Teramo, località una volta considerata la cortina d'Abruzzo. Potrebbe, perché solo nel pomeriggio si firmerà un accordo tra l'ASBUC, l'amministrazione separata degli usi civici di Pietracamela, proprietaria dei terreni, e la Gran Sasso Teramano, proprietaria degli impianti sciistici. Una situazione di stallo che si protrae da quasi due anni, durante i quali gli impianti non hanno funzionato, determinando una decadenza economica e turistica dell'intero comprensorio montano di Teramo. Il braccio di ferro tra l'ASBUC di Pietracamela e la Gran Sasso Teramano inizia quando l'imprenditore Marco Finori si è giudicato l'acquisto degli impianti di risalita di prati di Tivo e non avrebbe riconosciuto all'ASBUC il debito di 190.000 euro in canoni di affitto accumulati negli anni per l'utilizzo dei terreni dove insistono appunto le strutture di risalita. In assenza di concessione, nessuna attività è infatti consentita. La soluzione che sarà sottoscritta in provincia nel pomeriggio prevede una concessione dei terreni da parte dell'ASBUC di Pietracamela alla Gran Sasso Teramano, ma solo temporanea, con validità massima di 12 mesi e pagamento anticipato del canone. Senza questo accordo, gli impianti non potranno riprendere a funzionare. Si tratta però di un passaggio intermedio, precisa Pari de Tudisco, presidente dell'ASBUC di Pietracamela, che avrà durata solo fino a novembre 2022. La concessione definitiva la daremo solo quando un rogito notarile attesterà la definitiva proprietà degli impianti all'imprenditore Finori e quando l'ASBUC sarà risarcita dei canoni pregressi. Prati di Tivo dunque torna a vivere, almeno fino all'anno prossimo.